Dichiarazione sulla manifestazione di oggi, sulla questione dei rifiuti del decreto ministro Clini. Dopo 20 anni di battaglie, battaglie che hanno riguardato per la maggior parte i comuni e i sindaci limitrofi all'impianto di Safra, la discarica di Cerredo, finalmente il problema che attanaglia le nostre terre è diventato un problema di tutta la provincia di Frosifo. Dico questo perché? Perché finalmente questa mattina qui a manifestare c'erano più di 50 sindaci della provincia di Frosifo. Rispetto al decreto Clini è un atto arrogante di un ministro che non ha ricevuto nemmeno un'investitura all'agittimazione popolare, un atto al quale noi abbiamo abbattato sin da subito attraverso i ricorsi amministrativi e quella è una strada da intraprendere che abbiamo impropreso. Ma adesso il problema è fermare con la determinazione l'arrivo dei rifiuti dei rifiuti, ma non per una questione di becerati o di città. Perché il nostro territorio ci ha dato tanto, ci ha dato tanto con il ciclo dei rifiuti rispetto al ciclo dei rifiuti. Però adesso basta, diciamo con fermezza e con determinazione, no ai rifiuti. Basta.